Stasera non siete sulla pochina dell'Inter perché la partita è speciale soprattutto per Walter Zenga per la prima volta come allenatore a San Siro contro l'Inter. Lui è stato in Erazzurro per 22 anni dalla curva al campo e il popolo interista lo ha accolto come merita un grande che ha fatto la storia dell'Inter con una vera ovazione. Stadio Giuseppe Meazza, Milano San Siro, una buona serata da Maurizio Compagnoni. E Antonio Di Gennaro. Maicon. Crosse di Mecona, Ibrahimovic. Figo, Ibrahimovic. Pallone morbido all'interno dell'area, Balotelli. Montari, bella apertura, può partire Quaresma, c'è spazio, al centro si proiettano Balotelli e Montari con l'esterno. Montari! Cosa ha fatto Pizzarri? Grande riflesso di Pizzarri. Grande inserimento di Tedesco. La crossa di Tedesco, secondo malo, colpa di testi, Plasmati. Rete! Catania in vantaggio, Plasmati. L'apertura per Quaresma con Montari e Silvestri. Pronto a raddoppio di marcatura, Mascara. La tribela. Rete! La deviazione, Plombeffo a Pizzarri e c'è il pari dell'Inter, Quaresma. Recupera l'Inter con Montari, attaccato da Giocamo tedesco. Pervento falloso del palermitano. Attenzione Montari. Si nervosisce un po'. Vediamo. Qui c'è il palo di Tedesco, netto. Eh, si, panata, panata. Espulso Montari. Romani Maicon, una deviazione, palo su palo. Poi Pizzarri. Rete! Rete l'Inter in vantaggio. Nessuno salta. Perlizzi, palo. Non esce il portiere, poi ripetiamo. Qui è difficile magari dare un giudizio sul gol. È stato D'Agostini l'assistente dell'arbitro. Parte Balotelli. Palla su il secondo palo. Materazzi, sotto porta. E poi l'incredibile deviazione alta sopra la traversa di Burdisso. Maicon. Può puntare Silvestri. Prende velocità Maicon. Va in percussione Maicon. In area di rigore Maicon. Maicon, pala sul destro. Peso il sinistro. Il tiro. Palla fuori. Straordinario Maicon. Scatto e corribile dell'Inter. Palla dentro per Manzini. Buona il controllo. Manzini va in percussione. Putta Stovini. Ancora per Ibra. Ibrirare. Ibra il tiro. Pizzarri. Cerca il guizzo Manzini. Superato un avversario. Superato un secondo. Grande giocata di Manzini. C'è Ibra qui c'è al centro. Lo trova Ibra. Pizzarri. Manzini. Ibra Imoic. Game over a San Siro. Arriva la prima vittoria dell'Inter di Mourinho. 2-1 al Catania. Ed è una vittoria importante perché l'Inter ha giocato tutto nel secondo tempo in dieci uomini.